La missione di Sati è quella di migliorare la vita di ogni persona ogni giorno. E quando ci chiedono dove sono i nostri tessuti, a che cosa servono, noi proviamo a immaginare questo mondo senza di loro. Innanzitutto, le automobili non andrebbero. Gli elettrodomestici in casa non funzionerebbero. L'acqua utilizzata nelle nostre case, nelle nostre città, non verrebbe restituita pulita in natura. I tessuti stampati non sarebbero così brillanti. Il cibo non avrebbe probabilmente lo stesso sapore. Il sole non diventerebbe energia pulita con cui riscaldare i nostri uffici e le nostre case. Non potremmo contribuire a proteggere né a curare vite umane. Senza i nostri tessuti non potremmo essere così vicini, anche quando siamo lontani. In Sati sappiamo bene che ogni momento della vita è prezioso. Mettiamo ogni giorno la nostra competenza e la nostra passione affinché ogni persona possa viverlo al meglio. Gli elettrodomestici in casa non potremmo essere così vicino. Grazie a tutti.